Buongiorno, sono l'ingegnere Goldoni Marco, sono legale rappresentante della Sistemi 3 Ingegneria e Architettura di Modena. Ci occupiamo di progettazione impiantistica e di energetica edilizia. Quest'anno sono stato invitato all'agenzia per riprendere in chiave più bioarchitetturale e meno domotica la presentazione che l'anno scorso ha vinto il premio della settimana per la bioarchitettura e la domotica. Abbiamo presentato un progetto realizzato da Tetra Packaging Solution SPA di Modena nel sito di Via Emilia Ovest che ha visto l'impiego di tecnologie edilizie particolari, superfici vetrate di veramente rilevante altezza, tetto piano con trattamento Cool Roof, pompe di calore con connessione ad aria integrate da cogeneratore e soprattutto un sistema di gestione domotica esteso a tutti i dispositivi degli impianti meccanici ed elettrici del sito. La chiave di lettura che abbiamo voluto dare quest'anno per avvicinarci agli aspetti di bioarchitettura è stato così da un lato l'inserimento architettonico dell'oggetto che si ispirava all'aia, cioè al grande spazio aperto che caratterizzava le aziende agricole del nostro tessuto agricolo dell'Ottocento e dei primi del Novecento e all'aia come punto di aggregazione delle attività delle persone, quindi in questo caso come punto di utilizzo per l'azienda, per convention, eventi e tutto quello che va oltre l'ordinario. Contemporaneamente la struttura doveva essere una struttura anche utilizzabile per l'uso ordinario, quindi sostanzialmente uffici e attività d'ufficio, quindi trasparenza, flessibilità, uso della domotica e apertura verso l'esterno con particolari sistemi di ventilazione naturale che consentono un abbattimento dei consumi veramente importante. Grazie